La fotografia ha già rappresentato tutto ciò che poteva, tutto è stato fotografato, tutto è stato fotografato infinite volte, esistono molte più immagini delle cose che cose stesse, ci sono più sostituti degli oggetti, ci sono più immagini che oggetti oggigiorno. Io sto cercando con la fotografia un nuovo rapporto, la possibilità di creare una prima nuova immagine e questo processo ha bisogno di un azzeramento, questo azzeramento è una fotografia completamente nera che ha assorbito una quantità infinita di immagini fino a essere diventata totalmente nera e grazie al suo potere riflettente evidenzia e rende visibile il volto di chi guarda. In questi lavori, che ho chiamato meditations, meditazioni, l'osservatore si confronta col volto di se stesso nell'atto di guardare, si vede mentre sta guardando e si vede proprio perché è la fotografia che produce luce, restituisce luce visibile e non è più soltanto la luce che ha assorbito nel tempo, è quella che inizia ora a restituirci. In questo senso come si introduce il concetto di soglia? Si introduce e il lavoro è una soglia, è uno degli aspetti basilari di tutto il mio lavoro, mi sono reso conto nel corso del tempo che attraverso questo luogo reale e simbolico ho sviluppato tutta la mia ricerca fotografica. La soglia è quel luogo reale e virtuale che unisce mentre separa, che crea un'identità, una dualità attraverso un piano di divisione, un momento di discontinuità che crea un collegamento tra due poli. In questo caso c'è un interno e c'è un esterno, ci sono le immagini e c'è l'assenza dell'immagine, c'è la luce e c'è il buio, c'è la presenza di chi osserva e questo doppio che si riflette attraverso questa superficie totalmente bidimensionale. La fotografia stessa può essere di per sé una soglia? Sì, la considero davvero una soglia della percezione ma anche dell'esperienza. È quel piano bidimensionale che divide il soggetto dall'oggetto e che permette uno sguardo verso un'alterità attraverso una superficie fisica. È possibile mostrare l'invisibile con la fotografia? Si può allude all'invisibile, non si può mostrarlo. Noi abbiamo bisogno, nei nostri limitatissimi mezzi, abbiamo assolutamente bisogno della presenza di luce, ma attraverso la sua assenza riusciamo a creare un'alternanza e quindi anche un percorso narrativo. Ma immagini come quella del Mirab che alludono a qualcosa che in realtà noi non vediamo, se non nella nostra mente, almeno se lo pensiamo da credenti musulmani. Noi in questa immagine possiamo vedere la Mecca, nel senso della direzione, il nostro immaginario della Mecca fin tanto che non siamo riusciti a vederla. Sì, la vedo con lo sguardo, con l'occhio del mio pensiero, la immagino. È una percezione possibile. Ma immaginare, infatti, tra l'altro sono entrambi i termini della lingua araba. Mirab, ammirare, guardare verso, immaginare. C'è sempre questo senso di guardare verso, oltre. E ogni volta che io guardo una fotografia, attraverso la fotografia vedo qualcos'altro che non si trova in quel luogo. Trovo, c'è questa icona che rappresenta un'alterità. È l'invisibile che si rende visibile a questo punto. In questo senso, che relazione ha l'uso degli specchi come superficie di stampa? L'uso dello specchio rivela, nell'area in cui io non posso inchiostrare, in cui ci sarebbe solo il supporto, in cui dovrei, in una stampa cromogenica, vedere il colore bianco, quindi il supporto stesso, io rivelo il volto di chi guarda. Quindi è quella soglia che mette in contatto di nuovo l'interno con l'esterno. Io sono simultaneamente di fronte all'opera e al suo interno. La guardo, mi vedo mentre la sto osservando. Il punto di scambio è la superficie. La fotografia può essere sinestetica? Ritengo di sì. Può essere sinestetica, può alludere e anche attivare diverse percezioni, diversi piani interpretativi simultaneamente. In questo senso pensa che la diffusione di nuovi medium, come internet, come l'iPad, possa aggiungere qualcosa alla capacità di raccontare della fotografia? Mi è difficile rispondere. Cioè a me della fotografia non interessa tanto il piano narrativo quanto la forma simbolica che è in grado di attivare. Quindi ciò a cui essa può alludere attraverso un'immagine così limitata, così bidimensionale e così carente della realtà che noi andiamo a interpretare visivamente. Internet è un universo linguistico straordinario, fatto anche da immagini fotografiche. Però non so in che misura si è in grado di portare novità all'interno della lettura dell'immagine stessa, se non di tipo quantitativo e comparativo. Nella sua ricerca, a corso degli anni, compaiono delle immagini in cui c'è uno sviluppo autonomo della formazione delle immagini che poi in una seconda fase dall'autore viene ritagliato, preso, carpito, utilizzato. Paraludo per esempio gli spezzoni di pellicola. Sì, gli orizzonti in realtà sono il primo esempio nel mio lavoro di appropriazione. Quindi sono immagini che io non ho, prima di tutto non sono mie fotografie. In secondo luogo non hanno neanche una paternità certa, nel senso che non si sa assolutamente chi ne sia l'autore. E la cosa è priva di importanza, completamente. Cioè questi frammenti di pellicola sono stati autoesposti alla luce durante il processo di caricamento e su di esse è già avvenuta la costruzione di un'immagine latente prima che il fotografo abbia realizzato la prima delle sue 36 fotografie. In questo senso la fotografia è in formazione, in formazione, ma è anche in atto completamente, in quanto si è già strutturata completamente un'immagine che assolutamente ha referenziale. Non rappresenta nulla se non se stessa. E di sicuro l'oggetto rappresentato è un cortocircuito linguistico, il supporto stesso dell'immagine fotografica. In questo senso è assolutamente oggettiva, rappresenta la cosa in sé e come la rappresenta verso i propri codici. Bidimensionalità, assenza di terza dimensione, presenza della luce in forma di scrittura, di segno quindi. La luce di cui si occupa è solo una luce che crea o è anche una luce che può distruggere? È una luce che agisce in entrambe direzioni simultaneamente. Mi importa molto, di nuovo, questo aspetto della soglia. La luce incide, si riflette e distrugge. Genera, rende visibile e cancella al tempo stesso. Nelle icone di luce questo processo è molto visibile, nel senso che fotografando immagini, quadro ad olio, la luce ambiente che si riflessa sul quadro, mentre nell'attimo della riflessione, insomma la stessa luce che mi ha permesso lo scatto fotografico, è quella che colta in quel momento, come abbaglio, cancella anche l'immagine pittorica. Quindi è una luce che rivela e che nasconde simultaneamente. E la fotografia può essere un oggetto che interroga? È la forma di una domanda. È la forma di una domanda che ha espressioni e risposte multiple. La domanda, secondo me, è la questione qual è il nome della domanda. Come formuliamo una domanda? Da quel punto di vista incontriamo anche l'esito di una possibile risposta. E può parlarci? Può darci una risposta? Sì, basta ascoltarla. Come facciamo ad ascoltarla? Ma le immagini ci parlano, sono forme visibili di interpretazione del reale. E penso che scende in campo il potere delle immagini fotografiche, la sua fissità. Noi possiamo mantenere quell'immagine fissa davanti ai nostri occhi molto a lungo e nel corso del tempo ci offre continuamente nuove risposte, nuovi interrogativi. E come se tutto fosse contenuto al suo interno è per noi un processo di rivelazione trovare e ascoltare queste risposte. Ma potremmo ascoltarle anche fisicamente? Fisicamente? Ci sto provando, sto cercando di dare ad esse voce in questa mostra che si trarà al PAC a ottobre per la prima volta presenterò delle opere capaci di offrire una voce, una voce percepibile, un proprio suono, un'esperienza acustica e non solo visiva della superficie fotografica. Grazie. Grazie.